buonasera a tutti ragazzi allora parliamo un attimo dell'inter insomma che viene ha fatto una grande partita a napoli però se io devo parlare onestamente parlo in favore dell'inter ma visto che qua ci sono troppi tifosi anche napoletani che non capiscono quello che un tifoso cerche di esprimere perché io sono andato in due canali che aspettate che ok ti seguo che uno è domenico covone e l'altro è napoiel insomma ho detto la mia nel senso che ho detto mamma mia che potenza lukaku insomma poi ho messo i tre limoni ma per per scherzare mamma mia quando ho fatto quel commento lì i napoletani sono venuti come se ho ammazzato il familiare cioè veramente non non ho parole perché sinceramente raga adesso parliamoci chiaro il napoli ha giocato dieci minuti e in 90 minuti di gara totali più o meno perché pronti via si hanno avuto l'occasione di passare in vantaggio ma insomma l'hanno sprecata poi l'inter ha punito con quella di patenza di lukaku e le scivolone del giocatore del napoli però non è se nessuno dice che si è fatto 50 metri di campo ha duettato con l'autaro martinez che l'autaro si è portato via manolas e isai era uno contro uno contro lukaku che lukaku ha avviato una stecca ha fatto palovol cioè è stato una grande azione dell'inter nessuno dice essa è stato un regalo va bene il secondo gol contropiede dell'inter sempre di lukaku finta botta terribile che è arrivata una una botta più di 100 km orari meret gli è scappata o che sarà stato la forza del tiro o che l'ha presa male lui gli è entrata in porta sono errori che possono accadere cioè con quanti portieri sbagliano cioè anche andano dice anzi andano dice io mi ricordo è stato l'anno scorso due anni fa che ha preso un gol simile con un tiro meno forte perciò per farvi capire che anche i portieri sbagliano ok il terzo gol è stato di uno scivolone di di manolas che ha lasciato la palla e l'autaro la la buttata dentro questi sono i tre gol che ha fatto l'inter ma io dico è solamente culo è solamente il napoli che ha regalato questi gol non credo proprio perché ha detto bene luca luca nell'azzurro ha detto ok i gol sono stati fortunosi cioè il terzo è stato fortunoso ok come secondo che è stata una papera del portiere ci può anche stare ma quando tu non sfrutti queste occasioni il gol non lo fai l'inter è stata brava a buttarla dentro queste ripartenze ok purtroppo non tanti tanti tifosi napolitani di brucia perché perché oramai hanno fatto amicizia con quelli di torino insomma erano alleati capito cioè la juve sperava che napoli fermasse l'inter per essere da soli in classifica invece questa cosa di da a quanto fastidio da fastidio che l'inter e prima insieme alla juventus nessuno dice che conte sta facendo un grande lavoro ha fatto i nove trasferti nel 28 ok perciò già questo è un grande risultato stiamo giocando da tre mesi con vessino borca valiero e gagliardini ok a parte però dove dice che le ha fatte tutte perciò di che cosa volete parlare io non lo so veramente per me l'inter ha fatto una grandissima partita in un campo che non vince da 23 anni ok perciò vincere 3 a 1 a napoli anche con un napoli in difficoltà ma se noi andiamo a vedere anche il centrocampo del napoli con zelischi e alla non sono più forti di gagliardini e di vessino messi insieme perciò di che cosa volete parlare cioè sarà colpa di gattuso sarà colpa di ancelotti non lo so se se vi siete a quanti punti da 21 punti dal dal terzo posto ci sono perché è colpa dell'inter cioè non lo so a me sembra un po che vi state arrampicando un po sugli specchi e questo è il mio pensiero insomma è uno sfogo che sinceramente ci sta poi essendo anche i tifosi della juve cioè parlano loro cioè loro hanno vinto a torino 4 a 3 con un regalo quello è un regalo di cullibari che ha fatto uno sbaglione è entrato all'incrocio dei palli e hanno vinto 4 a 3 proprio quello non lo dicono però la triplette di cristiano ronaldo visto che sky ne ha parlato per un'ora e mezza ok va tutto bene ok il primo che ha fatto cristiano ronaldo è stato un regalo del difensore del cagliari ok che ha passato centralmente ronaldo ha intuito e l'ha buttata dentro quello non è un regalo però il gol di lukaku è un regalo certo va bene va bene come vi brucia il federino e vi brucia che dall'inter e a lottare per il campionato con la juve non siete abituati e cari miei se vincete il campionato loro vincete di un punto 2 non di più se lo vincete perché io vi sono anche la juve nel primo tempo ha giocato malissimo è col cagliari poi ha avuto la fortuna che colpirla che ha regalato il pallone a cristiano ronaldo poi si è sbloccato la partita poi va bene parlando della pagina dell'inter allora primo tempo secondo me non è stata un inter molto molto bella perché comunque fare due due gol andare al riposo su 21 in un campo difficilissimo ripeto con 23 anni che l'inter non vinceva chiudere la partita sul 31 vedendo che l'arbitraggio è stato a favore loro visto che loro dicono non è vero allora calcio di rigore su lukaku non dato è il primo il secondo su lautaro martinez quelle che dicono che non c'era e secondo tutte le ammunizioni che l'inter si è preso scrignare e e barella è giusto perché comunque hanno fermato delle azioni delle ripartenze giusto del giallo ma tutti i fatti che ha fatto in napoli non c'è stato un cartellino giallo cioè io non so il tuffo che ha fatto che a zelischi mi pare che anche lui ha detto guarda che non è fallo mi sono buttato io e l'arbitro ha detto no 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 è fallo e fallo cioè capite poi dite che noi interessi pensiamo male ma è normale è normale raga che che noi pensiamo male poi allora quei due rigori inondati all'inter poi bisogna farli ovviamente però almeno vai a vederli no però se ci fosse stata un'altra squadra andare a vedere al bar va bene così abbiamo vinto 3 a 1 perfetto abbiamo vinto non non c'erano polemiche ma io volevo vedere a parte inverse cosa succedeva visto che il napoli si è lamentato il famoso napoli atalanta del calcio di rigori su mili che mi pare o milico di orente come cavolo si chiama hanno fatto un caso nazionale però i due rigori che c'erano ieri sono passati in sordina vabbè ragazzi lasciatevi ai commentati iscrivetevi al canale ditemi come la pensate veramente ieri ero contentissimo ma sentire certi commenti veramente datevi all'ipica per piacere datevi all'ipica ok tempo forza inter